Ciao a tutti, oggi è il 9 agosto 2023, siamo qui con la Lilo che è il nostro cane, la Veronica e stiamo preparando i bulbi di cipolle e i semi di cipolle da mandare a Diego e Alessandro per il progetto Sovranità Sementiera di cui io e la Veronica facevamo parte fino all'inizio dell'anno e poi dopo siamo usciti per dar vita al progetto di biodiversità condivisa di questo canale, del gruppo di Telegram eccetera, abbiamo aperto con altri ragazzi qui della zona di Parma e alcuni sono del Veneto, alcuni del Piemonte, un po' di tutta Italia diciamo, abbiamo deciso di creare questo progetto di condivisione, una buona parte facevamo parte del progetto di biodiversità di Sovranità Sementiera, poi alcuni di noi sono usciti e abbiamo deciso di mettere insieme questo progetto che abbiamo chiamato biodiversità condivisa. Questi bulbi derivano dai semi che c'erano stati inviati per il progetto Sovranità Sementiera da Diego e da Alessandro, c'era stata una raccolta fondi, alcuni avevano fatto delle donazioni, altri avevano mandato dei semi e avevano contribuito mandando i semi di cipolle o altri semi e poi hanno state acquistate queste diverse varietà di semi di cipolle, sono state tutte mischiate, nel senso la cipolla per esempio la cipolla bianca di maggio è stata acquistata da diversi tra virgoletti i fornitori di semi, poi sono state mischiate queste semenze e sono state distribuite ai partecipanti del progetto del progetto Sovranità Sementiera di cui io facevo parte e mi sono state inviate questi semi che vedete, queste varietà che vedete, la cipolla bianca di maggio, la cipolla di Montoro, la cipolla gialla di Parma, la cipolla di Bassano del Grappa, la cipolla ramata di Milano, la cipolla di Breme e poi Alessandro aveva donato al progetto dei bulbi di cipolla di alife, di cipolla alifana che aveva coltivato lui e ha mandato i bulbi, quindi mi sono arrivati 6 bulbi da cui io ho messo nel lotto, trovate tutti i video nel nostro canale di questo canale e da questi abbiamo ricavato questi semi che adesso io non ho pulito, ho solamente tolto l'infiorrescenza col seme e le spedirò a Diego perché non erano ancora perfettamente secche che però volevo spedire prima del 15 d'agosto perché ho detto dopo sono dei problemi con il corriere per accelerare le cose così gli arriva tutto e se si devono organizzare o devono seminare le cipolle riescono. E questo diciamo è un po' il lavoro che abbiamo fatto con la Veronica, abbiamo seminato i semi che sono arrivati, li abbiamo messi prima nelle vaschette, poi una volta nate le piantine le abbiamo ripicchettate negli alveoli e poi col trapiantatore abbiamo messo a dimora tutte queste cipolle e poi 15 o 20 giorni fa con Christopher le abbiamo raccolte e abbiamo selezionato diciamo i bulbi più sani, non sono bellissimi perché non è piovuto tanto qui, è piovuto molto a maggio a giugno però le cipolle non sono diventate tanto grandi però diciamo abbiamo selezionato le più sane che verranno inviate a Diego ed Alessandro che da quelle da queste cipolle ricavano il seme quindi le metteranno a dimora ottobre novembre e poi ricavano il seme che l'anno prossimo distribuiranno ai partecipanti al progetto su valentà sementiera. Era questo, volevo farvi vedere giusto tutti i bulbi prima di spedirli giù a Diego e poi facevo più che altro il video per ringraziare tutti i ragazzi del progetto su valentà sementiera per ringraziarli, per ringraziare Diego, Alessandro, Alessandro è al canale YouTube super tranquillo dove trovate tutti i video anche del progetto, ci sono state anche delle tantissime riunioni condivise su zoom dove c'ero anch'io in una parte di queste dove abbiamo discusso sulle varietà, che varietà acquistare dove acquistarle, come distribuirle eccetera e questo è un po' il risultato di un anno di lavoro e di condivisione con il resto dei ragazzi che fanno parte di questo progetto su valentà sementiera e ci tenevo a ringraziare anche tutti i ragazzi che hanno fatto le donazioni e che hanno condiviso il seme che ci ha consentito di arrivare a riprodurre questi bulbi. Grazie ragazzi, io non faccio più, i laveroni che non facciamo più parte del progetto come abbiamo detto perché siamo partiti con questo progetto di questo canale YouTube e del gruppo Telegram Biodiversità Condivisa però ci tenevamo a fare la nostra parte e mandare i bulbi che abbiamo riprodotto dal seme e rimandarli a Diego e Alessandro perché li possono condividere ancora con altre persone che sono interessate quindi adesso faremo un pacchettino e lo spederemo a Diego io e la Veronica vi risalutiamo e vi ringraziamo e se avete qualche domanda scrivete pure nei commenti o scrivetevi al nostro gruppo di Telegram dove condivideremo anche noi parte di questi bulbi di questi semi perché io ne ho chiaramente qualcuno in più che posso condividere anche con chi non fa parte il suo vanità sementiere e vuole il semo dei bulbi se scriva pure che lo condividiamo volentieri quindi vi ringrazio e vi saluto, ciao a tutti, vi saluto anche il cane che continua a bagliare e di col suo bastone, ciao a tutti, ciao ciao grazie a tutti